Il mio compito oggi è quello di non tanto parlarvi dell'industria del futuro. Penso sia passato abbastanza bene il messaggio che il mondo cambierà, cambierà a livello industriale. In Germania si parla già di quarta rivoluzione industriale, quella che chiamano il mio compito sarà quello sostanzialmente di fornirvi qualche piccolo consiglio su come utilizzare l'Europa per fare evolvere le vostre aziende. Mi riallaccio a quello che ha detto stamattina il professor Terzi sul tema dei problemi e del coraggio delle imprese. Le imprese oggi si trovano di fronte a un contesto sicuramente complesso e in rapida evoluzione. Abbiamo visto oggi dal professor Terzi come la differenza tra un'azienda di successo e un'azienda nella media, e nella media spesso oggi vuol dire in difficoltà, rappresenta su alcuni punti fondamentali pochi per cento. Se ricordate quel diagramma alla fine si passava da 70 a 80 su alcuni valori. ecco, per riuscire a essere di successo nell'impresa bisogna riuscire a scalare questo piccolo per cento. E questo piccolo per cento si scala innanzitutto non avendo paura dei problemi. L'innovazione si fa con il coraggio. E da questo punto di vista l'Europa ci può aiutare. Ci può aiutare perché, come vedremo, ci sono molte possibilità, molti dei fondi, molti dedicati alle piccole e medie imprese proprio per fare questo. Noi come associazione partiamo dalla piattaforma ManoFuture. ManoFuture parte nel 2003. Io faccio ancora un ulteriore passo indietro. Nel 1999 l'azienda per la quale lavoro, il gruppo Prima Industrie, si è quotato in borsa. E mi ricordo che in quel momento un analista col quale stavo parlando mi disse ma sai, comunque nel mondo oggi le transazioni finanziarie hanno un valore dieci volte le transazioni reali. La sua era una affermazione di merito, cioè non soltanto numerica. Sostanzialmente si diceva che è molto più importante il fattore finanziario di un fattore di grandezza. Dieci volte tanto la manifattura, le transazioni reali. Ecco, dall'inizio degli anni 2000 un certo numero di associazioni, fra cui ManoFuture, ha iniziato a spingere, a cercare di far capire che questo non è la realtà. E l'importanza del settore manifatturiero per la sopravvivenza delle imprese è un punto fondamentale. E devo dire che dopo tutti questi anni, ne sono passati più di dieci, tutto sommato ci siamo abbastanza riusciti. Se anche il Financial Times dedica importanti articoli sulla importanza del settore manifatturiero. Il settore manifatturiero, oltretutto in Europa, rappresenta anche in termini di numeri un valore importante. Cioè il 14% del lavoro diretto, dei posti di lavoro. Se consideriamo tutto quello che deriva dall'indotto, dai servizi che vengono generati, circa il doppio, quindi il 28%, il 67% dell'export e il 65% dell'R&D. Quindi è un settore cruciale per il successo e questo è particolarmente valido per l'Italia. La nostra bilancia dei pagamenti dipende fortemente dal successo del settore manifatturiero. Noi importiamo energia, importiamo tutta una serie di cose, esportiamo manifatture, esportiamo macchine utensili. E qui bisognerà ragionare molto sul cambiamento che porteranno i nuovi paradigmi. Perché nel mondo si esporteranno sempre meno beni e si esporterà sempre più, e si trasporterà sempre più dati. La rivoluzione digitale vorrà dire anche questo. Cioè sarà sempre più impossibile esportare una macchina utensile da 20 tonnellate in Cina. Ma si possono esportare molto bene le conoscenze che sono legate a questa macchina utensili, che si trasportano via internet in pochi millisecondi. Noi come associazione quindi stiamo portando avanti questi concetti a livello di Europa, abbiamo firmato quella che si chiama una contractual PPP. Purtroppo l'Europa ha un suo slang, un suo dialetto, che è per chi si avvicina molto difficile da comprendere. CPPP vuol dire Partnership Pubblico-Privata-Contrattuale. Cioè è un accordo scritto e formale che la Commissione fa con delle associazioni, associazioni nel nostro caso industriali, per sviluppare determinati settori. E questi nel settimo programma quadro erano tre. Erano la fabbrica del futuro, i Green Vehicle e i Green Buildings sostanzialmente. Quindi tutta la parte sulla sustainability nell'ambito automotive e costruzioni. In Horizon 2020 saranno otto in totale, cioè si aggiungono il Sustainable Process Industries, cosiddetto SPIRE, il 5G Future Internet, robotica, fotonica e i Performance Computing. Poi all'interno di tutto questo ci troverete le famose tecnologie abilitanti, le CAT. Però volevo ribadire rispetto a quando ci sono detto stamattina che l'evoluzione dell'impresa verso la fabbrica del futuro non è solo un fatto tecnologico. Sicuramente la tecnologia è un fatto portante e qualificante, ma è anche una questione di mentalità, di cambio di paradigmi. Noi questa tematica la stiamo portando avanti. Abbiamo firmato a dicembre del 2013 questo contratto con la Commissione che porta 1.150.000.000 di fondi della Commissione europea alle imprese, ai cerenti di ricerca e alle università che lavorano sul manifatturiero. Quindi in sette anni sono un grosso sforzo. E' stata una delle voci di spesa che non ha visto riduzioni nel programma della Commissione europea rispetto al settimo programma quadro. Questo è stato possibile perché nel settimo programma quadro il progetto fabbrica del futuro è riuscito a fare quello che da tanti anni non si riusciva a fare, cioè ricoinvolgere l'industria nella ricerca europea. Quindi vedete qui come mentre l'i-education, cioè sostanzialmente il mondo universitario, avesse una presenza al 35% all'interno del settimo programma quadro, è calata nei progetti della fabbrica del futuro a un valore intorno al 17% e contemporaneamente è salita moltissimo la presenza dell'industria e delle piccole e medie imprese. Quindi questa partecipazione molto ampia è stato il fattore di successo che ha permesso di continuare questo tipo di supporto da parte della Commissione nei prossimi anni. Mi rendo conto che devo accelerare, scusate. Il motivo per cui questo è stato un progetto di successo è stato perché il coinvolgimento dell'industria nella definizione degli obiettivi è stata sin dall'inizio molto importante. E questo ha portato dei risultati sicuramente importanti in 150 progetti, con più di 500 aziende partecipanti, più di 200 piccole e medie imprese e, cosa molto più importante per noi italiani, finalmente il raggiungimento di una quota di finanziamenti proporzionale a quello che l'Italia versa alla Commissione. L'Italia versa circa il 14% del budget della Commissione e globalmente prende, io sono stato ottimista, ho preso il dato migliore che ho trovato su internet, 8,7%. In verità, probabilmente la verità è che siamo più vicino all'8%. Quindi sostanzialmente ci sono circa 6 punti che vengono lasciati ad altri Paesi membri. Senza parlare di fondi strutturali, che è ancora un discorso ancora più complesso, se lo guardiamo soltanto sul budget di Horizon 2020, su 80 miliardi complessivi, stiamo parlando di quasi 5 miliardi che vengono presi dalle tasse degli italiani e distribuiti ad altri Paesi europei. Nella fabbrica del futuro siamo riusciti a ottenere un valore abbastanza allineato, cioè sostanzialmente circa 90 milioni sul totale del budget, risultando il secondo Paese per finanziamenti, dopo la Germania e quindi rispettando la nostra posizione nel settore manifatturiero. Non mi dilungo sulle storie di successo, ho riportato proprio soltanto due progetti, ma più che altro voglio evidenziarvi che questi progetti sono progetti che hanno un forte impatto reale. Non sono puri progetti di ricerca, sono progetti con dei dimostratori, con delle realizzazioni effettive, in questo caso ci sono anche delle aziende italiane, e che ha portato a fare dei brevetti, a portare avanti dei prodotti. Quindi sono dei soldi che sono molto finalizzati ai risultati. Questo è il successo che abbiamo ottenuto nel settimo programma quadro e che ci ha permesso di continuare a svolgere questo ruolo sulla fabbrica del futuro in Horizon 2020. Questo passa tramite una strategica agenda. La strategica agenda è il nostro utensile per influenzare la Commissione a sviluppare in maniera appropriata i propri target di ricerca. Vedremo più avanti che adesso siamo in una nuova fase in cui stiamo ridefinendo alcune tematiche della strategica agenda, e questa è aperta a tutti. La strategica agenda si basa sostanzialmente su sei domini. Alcuni di questi sono già stati visti oggi abbastanza in dettaglio, tipo la Digital Virtual End Resource Efficiency Factories, la Collaborative Enterprise, specialmente il Human Center Manufacturing, ai quali si aggiungono anche il Focus Customer Manufacturing, è stato evidenziato anche stamattina, cioè come alla fine la voce del cliente va sempre riportata nel processo, e l'Advanced Manufacturing Process e la Smart Manufacturing Systems. Tutti questi progetti, nel dialetto della Commissione Europea, devono avere un forte focus sulla innovazione. Innovazione per la Commissione Europea non vuol dire fare solo cose nuove, ma vuol dire portare i risultati dalla ricerca al prodotto, al mercato. Quindi è un'accezione leggermente diversa, è quello che in Europa si chiama Bridging the Valley of Death, cioè passare alla valle della morte, che tipicamente è quel problemino che abbiamo in Europa, per cui generiamo tantissima conoscenza a livello universitario di centri di ricerca, ma solo una piccola parte viene poi convertita in reali prodotti. Ecco, quindi il progetto Fabrica del Futuro in Europa non ha lo scopo di fare ricerca, ma ha lo scopo di favorire un nuovo paradigma di imprese, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Io, fra l'altro, rappresento una grande impresa, lavoro in una grande impresa, quindi spesso mi viene fatta questa domanda. Io rispondo sull'importanza relativa tra grandi imprese e piccole imprese. Sicuramente oggi la grande impresa ha davanti a sé delle challenge molto difficili nella globalizzazione. E l'obiettivo per le grandi imprese è comunque quello di andare a servire i mercati più lontani. Quindi è abbastanza difficile pensare che la grande impresa, riesca nel manifatturiero, da sola, con i suoi numeri, a risolvere il problema principale che c'è in Europa, che è la disoccupazione. A questo possono contribuire molto le piccole e medie imprese, cambiando un po' loro stesse, diventando le piccole e medie imprese del futuro. Quindi non solo le aziende del futuro, non solo le fabbriche del futuro, ma le piccole e medie imprese del futuro. Ci sono circa 26 milioni di piccole e medie imprese in Europa, e ci sono circa 24 o 25 milioni di disoccupati. Quindi sarebbe facile dire che basta che ogni piccola impresa sia in grado di assumere una persona e il problema sarebbe risolto alla radice. Però sicuramente è nelle piccole e medie imprese, in questo nostro tessuto, che si deve ricercare la competitività e di cambiare la marcia. Perché il problema principale che abbiamo in Europa, lo sappiamo tutti, è la disoccupazione. Ecco, quindi questo è un programma che si focalizza su creare nuove imprese con alto livello di customizzazione, qualità, che lavorano su alcuni nuovi paradigmi. Ad esempio il re-manufacturing, che stamattina si è parlato di terre rare. Ecco, terre rare. Le terre rare non sono rare innanzitutto. Il neodimio nella terra è più abbondante del rame. Peccato che per estrarlo, cioè tipicamente, viene estratto con materiali radioattivi e quindi è un materiale potenzialmente pericoloso. Allora, il signor Deng Xiaoping, intorno agli anni 90, disse non c'è nessun problema, gli arabi hanno il petrolio, ma la Cina le terre rare. Quindi c'è stata una strategia dietro che ha portato la Cina al ruolo in cui è. Ecco, l'Europa deve trovare il suo modo di fare. E l'Europa ha delle miniere urbane. Cioè noi abbiamo tantissimi prodotti che a loro, fino al ciclo di vita, e quindi ritorniamo anche al discorso di PLM, vanno a finire in discarica. E le terre rare sono fondamentali per sviluppare tutti i prodotti green. Quindi bisogna ritrovare dei nuovi tipi di paradigmi. Il Giappone, da questo punto di vista, ha fatto tantissimo. Ci sono delle aziende specializzate sul reciclaggio con dei livelli tecnologici altissimi. E questo è un grossissimo mercato che basta prendere. Ovviamente il lean manufacturing, il zero defect, sono tutte cose che probabilmente a tutti gli imprenditori sono più familiari. L'intercontentività, quindi parlavamo appunto Industria Fiat.null, cloud, cioè modernizzare l'impresa usando al massimo le tecnologie informatiche. creare delle factory vicine ai clienti. E questo è il paradigma che abbiamo visto sul 3D printing. Cioè non fare più viaggiare camion pieni di merci, ma fare viaggiare ovvi è possibile i dati. Il 3D printing non è soltanto una nuova tecnologia, è un nuovo paradigma produttivo, in cui non si produce più in grandi fabbriche e poi si distribuisce a rete tramite camion, ma si produce vicino al consumatore facendo viaggiare non merci ma dati. E questo cambierà radicalmente il modo di pensare la propria catena distributiva, i propri modelli di business, eccetera, eccetera. E poi, lo dico sempre, credo che sia comunque chiave, in Europa noi dobbiamo puntare sulla eccellenza del nostro personale. In questo momento abbiamo una potenzialità grandissima inespressa, sono il 50% di giovani che in questo momento non trovano lavoro in Italia, quei giovani che sono fra l'altro la cosiddetta Erasmus Generation, sono persone che parlano le lingue, possono essere molto utili in un cambiamento di contesto e anche per portare le imprese di più in Europa. Quindi dobbiamo riuscire a valorizzare questo fatto che rispetto ad altre parti del mondo è impagabile. Chiudo rapidamente dicendo che noi abbiamo un portale sul quale potete trovare tutta una serie di informazioni su questo, la prossima settimana ci sarà a Berlino una grossa iniziativa della DG Connect, cioè la DG europea che si occupa della parte informatica, focalizzata alle medie imprese, il 20% dei fondi di Horizon 2020 sono riservati alle medie imprese e specialmente le medie imprese italiane tendono a non pensare a questo come a una grande possibilità. Quindi valutatelo, assumete qualche giovane ingegnere che conosce bene le lingue, che sa scrivere bene in inglese e sicuramente riuscirete ad accedere a una parte di quel miliardo, 150 milioni che sono dedicate al manufatturiero in futuro. Le nuove call su Factories of the Future sono state già pubblicate, la deadline sarà febbraio 2015, non entro in dettaglio perché non c'è tempo, vi voglio solo dire se le leggete troverete che sono delle tematiche abbastanza ampie in cui sicuramente ci sta qualche cosa che voi nella vostra impresa vorreste fare, perché poi questi tipi di progetti vanno fatti per essere utilizzati, quindi non ha nessun senso fare progetti nei quali non ci si crede realmente. Ecco, quindi qui trovate nella presentazione tutte le definizioni e i dettagli su queste call e chiudo dicendo che noi non siamo un club esclusivo, siamo assolutamente aperti, abbiamo più di 130 membri fra cui molte delle principali imprese, università e centri di ricerca europei fra i nostri membri, ma siamo aperti a tutti, siamo aperti a tutti quelli che vogliono lavorare su queste tematiche e da questo punto di vista le consultazioni per definire le tematiche del manifatturiero per il bienio 2016-2017 sono aperte, noi dovremo pubblicare alla Commissione Europea un nuovo documento per definire le nuove priorità entro luglio, potete accedere sul portale, potete registrarvi e potete inserire quello che voi pensate, ne terremo sicuramente conto. Grazie, sono stato nei tempi. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.